Teatro contemporaneo, prosa, danza e operetta. Anche quest'anno il teatro di Forlì Diego Fabri presenta un cartellone ricco di appuntamenti con nomi illustri del panorama teatrale italiano. Abbiamo una bellissima stagione di prosa, danza e operetta con dei nomi illustri a livello nazionale, abbiamo l'omonaco che torna sul palcoscenico con un bello spettacolo sulla mafia, abbiamo Luca De Filippi, abbiamo Giovanni Dix, abbiamo Claucomar, quindi una stagione con le ossa, una bella stagione, quindi queste continuità. Comunque abbiamo anche una parte di innovazione, abbiamo anche una piccola stagione sulla contemporaneità, quindi quattro appuntamenti sulla contemporaneità a livello romagnolo, quindi questo penso che sia anche un'importante novità. Sebastiano Lomonaco, Gabriele Lavia, Alessandro Haber saranno alcuni dei protagonisti di questa stagione 2011-2012 per quanto riguarda la prosa. Novità assoluta, come abbiamo sentito durante l'intervista quest'anno, la presenza di quattro compagnie romagnole di teatro contemporaneo, Mask, Città di Ebla, Teatro Valdocche e Le Albe. Insomma, un cartellone per tutti i gusti.